bisogna assolutamente che riattivo il cappellino di robin vedo che anche il quatersella non mi riconoscono cammino, passano le macchine non si fermano, non dicono si capisce, senza cappellino proprio non sono nessuno ma proprio nessuno ti porto a fare un giretto dentro il porticciolo qua di Angra la parte del paese diciamo che dà sulla marina cosicché è una giornata talmente fantastica che fa proprio la pena andarci eccomelo qua, dove sto? all'incrocio fra Carrera d'Osccavalos e Rua d'Aroche eccoci qui e qua guarda, cioè guarda attraverso gli occhi miei che vista che c'è poi te la faccio vedere, eh? guarda un po' eh lo so gli occhi possono dire tanto ma non così tanto e poi guarda un po' spettacolo dicono qua spettacolo veramente Angra do Eroismo la capitale dell'Isola Intersella 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 Intersella cioè prova promo anti-evento di che promo è promo questo promo? è un promo che promuove Super Tools ma chi è? Super Tools è un evento online un webinar una specie di trasmissione che va in onda su internet totalmente gratuita tu ti iscrivi vai di quando? mercoledì sera da mio tempo mercoledì 9 novembre alle 21 che succede? succede che ci sono io che in diretta ti faccio vedere 12 tool eccezionali per risparmiare tempo comunicare in maniera efficace e trovare soluzioni a problemi che manco sapevi di avere ma che vuoi di più? tutto senza dover spendere una lira quindi mercoledì 9 novembre ore 21 dal vivo su internet Super Tools dove ti registri? scrivi Super Tools trattino novembre trattino 2016 punto eventbrite punto it ok? aspetto grazie a tutti